Ciao la redazione di Musica in Contatto, io sono Turchese. Mi presento brevemente. Turchese è un progetto nuovo a cui ho dato vita dopo aver suonato per più di 15 anni con la mia storica band, che sono gli Airway. Dopo lo scioglimento della band, nel 2021, quindi quest'anno, ho dato vita a Turchese. È un progetto che si basa su di me, sulla mia scrittura, sulla mia voglia di continuare a fare musica dopo l'esperienza con la mia band. Che dire, il mio nome d'arte, visto che me l'hanno chiesto in tantissimi, è legato chiaramente al mio colore preferito, ma non solo, nel senso che il Turchese, oltre a essere stato sin da quando ero piccolo il mio colore preferito, è sempre stata proprio una tinta che mi ha attratto in maniera particolare, quasi magnetica. Mi ha sempre trasmesso una sensazione di unicità, e quindi nel momento in cui ho avuto l'opportunità di fare, di rendere questo colore solo mio, ho deciso di farlo appunto chiamando il mio progetto solista Turchese. A livello di influenze musicali possiamo dire che per ora sono usciti solo due pezzi, ma tutti quelli che usciranno avranno delle sonorità tendenzialmente molto diverse l'una dall'altra. Il motivo di ciò è che i miei ascolti sono assolutamente vari, e quello che io voglio che rimanga come linea comune e punto di forza di Turchese è la mia scrittura e chiaramente la mia voce, che spero entrambe mi identifichino in maniera molto marcata. Sono qui per promuovere il mio nuovo singolo, il secondo singolo uscito, che si chiama Straniera. Sta andando benissimo, sono molto felice dell'accoglienza che ha ricevuto. È un pezzo che io reputo genuino e molto diretto. È la prima canzone nata quando ho deciso di dare vita a Turchese, ed è nata in maniera molto spontanea. Ero nella mia vecchia casa, al terzo piano, era tarda primavera e al tramonto. Il sole a un certo punto ha cominciato a battere sullo specchio e con quel rosso caratteristico del tramonto ha cominciato a disegnare delle strane forme sul muro. In quel momento ho preso la chitarra e ho scritto, ed è nata Straniera. Vi invito ad ascoltarla. È una storia molto leggera, che però secondo me trasmette un sentimento di leggerezza e positività molto forti. Parla di due ragazzi che si conoscono a Venezia, in una sera un po' pazza in cui hanno bevuto un po'. È una cosa che capita spesso a Venezia. Chi vive vicino a Venezia lo sa. Sicuramente è passato delle serate pazze, in cui possono succedere tutte le cose, può succedere qualsiasi cosa. In Straniera ho raccontato un episodio di questo tipo e secondo me rende molto bene l'idea. L'altra canzone che ho pubblicato prima di Straniera si intitola L'ultimo metro e è un pezzo dalle influenze in realtà un po' più anni 70, un po' più battistiane e vi invito ad ascoltare anche quello. Che dire, mi pare di aver detto tutto. Se siete curiosi di sapere qualcosa su di me, visitate i miei canali, quindi il mio profilo Instagram che è Turchese Official o venitemi a trovare su Facebook, sempre alla pagina al nome Turchese. Ringrazio ancora Musica in Contatto per lo spazio. Vi saluto e aspettatevi prestissimo altra nuova musica perché Turchese è appena iniziato. Ciao a tutti da Turchese, grazie mille.